La Cisle FP e la Will FPL hanno incontrato il direttore generale della Asla Vezzano Solmone L'Aquila, Rinaldo Tordera, per affrontare il delicato tema della carenza di personale all'interno degli ospedali della provincia aquilana, che mette a rischio le ferie estive. I sindacati hanno consegnato a Tordera una lettera in cui si sollecita la soluzione immediata del problema. Nella missiva, a firma di Gianfranco Giorgi, responsabile provinciale Cisle FP Sanità, e Giuseppe De Angelis, segretario regionale Will FPL, si chiede l'assunzione di personale sanitario a fronte dell'approssimarsi delle ferie estive. Un diritto irrinunciabile del lavoratore, così come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di settore e nel rispetto della legge 161 del 2014, che stabilisce la durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero. Il tutto al fine di garantire condizioni di lavoro idonee ed assicurare un pieno recupero delle energie psicofisiche del personale. Giorgi e De Angelis fanno presente inoltre che, qualora non si dovesse provvedere alle suddette assunzioni, si verificherebbe una forte riduzione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio provinciale, con sicure di servizi per gli utenti. Il problema della carenza di personale, che mette a rischio le ferie estive per buona parte dei lavoratori della ASL, era già stato sollevato verbalmente dalle organizzazioni sindacali, che hanno messo tutto nero su bianco, chiedendo risposte immediate da parte dei vertici dell'azienda sanitaria aquilana.